Forza, 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 forza Mune Seba, forza Mune Seba. 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 voi riempire! оргie d'armi e volore! in cui vi faccio il nome? che si sono un'mercato! Tutti ci sono pazienti o no? Tutti ci sono pazienti! Per quanto ci sono pazienti di fare buoni? Tutti ci sono pazienti! Per quanto si ritornano. Non lo fa bene, per lo che trovi è pazienti! Ci sono pazienti! A qui ci sono pazienti o no? Non ci sono pazienti! Oggi è pazienti! Il uso pazienti! Ci sono tutti i Pinotelli, tutti i Pinotelli.. Cannot'am infatti 5 litri, 7 litri Da 5 litri o una parte sul campo? Poi non sono 3 litri o 3 litri o 3 litri O questa è un gran genere? Per questo tipo di ponte, ciao? Ci sono sempre nella scoccia di DRADEP Signor, ci sono inclutati all'estri E si accendono alla loro Ci sono le nostre ma... ...dia a un'amnistia... ...dia che ci sono due precedenti... ...i non si sentite in modo che ci sono vedi... ...i non sono capace con i medici... ...i non lo sopravamo... ...e non lo sopravamo a capire... ...sicci di viveremo... ...dia abbiamo trovato questa terra... ...allora siamo trovati in questo sottile... ...se il nostro corso... ...lo sopravamo... Per esempio, abbiamo 8 dara, sono salti, 對不對, abbiamo 5 dara, abbiamo un paese, abbiamo un po' di 5 dara, abbiamo un po' di basso. Ci sono molto obiettivi che ci si pensano attraverare, abbiamo un po' di riscolta, abbiamo un po' di riscolta, una macchina, una banan, un po' di riscolta, tutto ciò che è importante. ci sono stati messaggiato che ci sono stati usciti. Ci sono stati riempiti alla fedele della sua famiglia. Siamo la scopo Andrade A come la scopo e il bianco Gli bianco di bianco Non c'è una scopo Il bianco è uno dei 12 franque C'è un bianco da 9 franque Io sono arrivato con il bianco C'è un bianco con il bianco Vediamo il bianco Il bianco di bianco E per la scopo di bianco La scopo di bianco è una scopo E non hanno messo la scopo Edfahren in Italia La città della città è una città della città. a ricordare il modello di più con l'esercito la città la città e la città grazie le tue le tue le tue la città un po' Fondiamo in un'amico che viene sulle amiche, ma in un'amico è un'amico e sulle amiche, in un'amico che viene sulle amiche di un'amico Ma in un'amico, in un'amico che viene sul corso di amico ma nella domanda, è un'amico che si dice il terzo a fare il terzo La domanda abbiamo chiamato aicipato del corso della città che non hanno chiamato la capacità di riusciare il corso Grazie per la visione. Grazie a tutti.